Eh volevo dare adesso la parola a Franco Russo che è collegato con noi. Ricordo solo che noi con Franco e con altri compagni abbiamo costituito l'osservatorio dell'Unione Europea con cui analizziamo, mettiamo diciamo a disposizione delle conoscenze e vedo anche Michela Ricale che è con noi e che poi potrà anche intervenire. E quindi cerchiamo di costruire degli spazi di interlocuzione con chi queste eh queste conoscenze le ha che vive eh nelle istituzioni europee e che conosce eh qual è le quali sono le dinamiche delle istituzioni a livello europeo. Franco a te la parola. Grazie mille di di avermi invitato e buonasera a tutti e a tutte e mi scuso se sono da remoto ma purtroppo per impegni poi i con mio nipote non non potevo partecipare direttamente alla alla assemblea. quindi vi ringrazio per per mi concesso la data la possibilità di di parlare con con voi. Maurizio Cerbo diceva un un trust di cervelli cioè ci servirebbe mettere tanti su trust di cervelli. ora io senza ehm arroganza dico che l'osservatorio dell'osservatorio dell'Unione Europea che abbiamo costituito ehm con la presenza di persone che provengono come si dice sempre da diverse esperienze ma questo è vero cioè iscritti o attivisti di dei dei sindacati di base di rifondazione comunista di potere al popolo ehm. o non iscritti da nessuna da nessuna parte abbiamo costituito questo osservatorio dell'Unione Europea eh come una epistemic community come una comunità epistemica e con questo voglio dire che abbiamo sentito la necessità di fare un lavoro permanente quotidiano giorno per giorno per seguire le attività che l'Unione Europea intraprende ehm impresa non facile perché la comunità l'Unione Europea ehm è il il governo che ehm guida ventisette paesi e e quindi eh ha un'attività incessante sia di elaborazione ma soprattutto di decisione e di azioni. Ora l'un l'Unione Europea è da decenni anche per le sue caratteristiche giuridiche la forza che determina le condizioni di vita e di esistenza di circa cinquecento milioni di persone e diciamo così attraverso l'Unione Europea i diversi governi e si parla appunto di esecutivi di federazione degli esecutivi i diversi governi riescono a decidere fra di loro ehm che cosa intraprendere appunto per sviluppare ulteriormente il mercato il mercato unico per sviluppare la competitività delle imprese europee per dare una dimensione geopolitica mondiale all'Unione Europea ebbene il fatto che l'Unione Europea prenda le decisioni hm hm entro cui i diversi stati membri debbano poi decidere questa percezione cioè dell'importanza quotidiana che ha sulla vita di cinquecenti milioni di persone all'Unione Europea a mio avviso lo dico in questa sede in cui ci sono persone che so perfettamente essere consapevoli invece del contrario ma io ripeto ho la percezione che questo ehm consapevolezza non sia ancora presente io sento ancora in molte riunioni per esempio l'ultima che ho fatto sul decreto sul disegno di legge sulla concorrenza che mettere al centro anche insieme al governo Draghi l'attacca all'Unione Europea sarebbe fare un regalo a Draghi mentre così non attaccando l'Unione Europea noi ci troviamo con il fatto che l'Unione Europea decide eh che cosa va privatizzato mettendola addirittura nei PNRR come come riforme abilitanti per poter prendere i miliardi che questo che questi piani o di cui questi piani possono soffrire ebbene mi sono sentito ripetere che mettere al centro anche l'Unione Europea significa sminuire il ruolo del del governo Draghi così invece sminuiamo il ruolo dell'Unione Europea e ci diamo e diamo l'impressione a noi stessi e agli altri che l'Unione Europea comunque ha dei margini di di ragionevolezza di razionalità e dunque sono i governi degli stati membri che eh sono eh governi cattivi io penso che questa consapevolezza eh invece che l'Unione Europea debba essere messa al centro delle nostre delle nostre iniziative debba debba fare ancora molta molta strada pur eh purtroppo il che non significa ehm evitare di scontrarsi con i governi nazionali che significa vedere appunto dov'è che i governi nazionali prendono le decisioni saltando i parlamenti perché eh parliamoci chiaramente anche l'ultimo eh eh def si iscrive dentro le le direttive che l'Unione Europea ha dato compresa la la seconda versione del temporary framework per affrontare appunto la crisi che viene dalla guerra in 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 Ucraina. ebbene l'osservatorio ehm dell'Unione Europea che abbiamo messo su eh grazie anche a Transput perché ci dà non solo la partecipazione di tutti i suoi membri ma anche le le strutture attraverso cui possiamo 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 dialogare credo che sia un fatto particolarmente importante. Ora l'osservatorio dell'Unione Europea sono molto rapido l'Unione Europea è funziona in maniera molto molto semplice. Come ho detto siccome c'è una mole di decisione di azione di l'iniziativa che l'Unione Europea prende noi ci siamo presi l'incarico che è iscritta alla mail in lista dell'Unione Europea anzi vi invito a farlo chi fosse interessato di scambiarci le informazioni di cui noi veniamo a conoscenza quindi ehm le decisioni della commissione l'attività del Parlamento Europea e ovviamente l'accompagniamo con dei commenti cioè diciamo la decisione presa sul temporary ehm eh framework significa questo questo e questo oppure l'iniziativa sul la digital transition via questo questo e via dicendo quindi questo è un lavoro appunto ripeto non da trust dei cervelli ma semplicemente da epistemic community cioè di scambio di informazione anche di di formazione. Naturalmente accompagniamo a questo lavoro quotidiano di informazione una serie di seminari e di incontri. L'ultimo che abbiamo fatto risale al tredici di aprile e naturalmente è stato centrato sulla sulla vicenda dell'Ucraina. non solo visto da un punto di vista geopolitico ma affrontando le questioni delle materie prime in cui di cui l'Unione l'Unione Europea soffre perché ovviamente la crisi della guerra in Ucraina accentua i problemi che l'Unione Europea ha nel nel rifornimento di materie prime ma questo è un problema che da anni l'Unione Europea si 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 porta dietro perché la transizione sia cosiddetta verde sia cosiddetta digitale ha bisogno di nuovi materiali tanto per parlare dal 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 dalle terre rare al 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 litio quindi l'Unione Europea ha un problema di approvvigionamento sicuro sicuro di questa di queste di queste di queste materie prime così come abbiamo affrontato la questione della 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 guerra affrontando le contraddizioni che esistono fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti perché se avete letto oggi un'intervista che Macron ha dato al Corriere della Sera vi rendete conto appunto che nella conquistare la sovranità geopolitica che è uno degli obiettivi della commissione von der Leyen e oggi la crisi militare e di guerra in Ucraina pone l'Unione Europea in una posizione di debolezza nei confronti degli Stati Uniti d'America da cui si voleva svincolare infatti Macron continua a insistere che non bisogna appunto sottostare ai di Biden ma invece ricercare una soluzione appunto di di pacificazione in quella in quest'area del mondo affinché anche l'Unione Europea eh abbia un suo un suo ruolo naturalmente Macron non parla solo per pacifismo Macron parla per gli interessi appunto dell'Unione dell'Unione Europea e noi abbiamo affrontato e vado a chiudere ehm abbiamo affrontato la le le decisioni della della Commissione Europea che ha preso negli ultimi anni dal da 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 quelle per fronteggiare il covid a ora la crisi ehm in Ucraina con la guerra scatenata da da Putin l'abbiamo affrontata con con questa ottica le classi dirigenti capitalistiche questo lo diceva molto bene Alessandro Scassellati eh sono espressione di tendenze continuamente trasformative del sistema economico sociale del capitalismo in questo caso europeo ehm e quindi noi ci siamo posti il compito di seguire appunto le dinamiche di questa trasformazione del capitalismo ehm continentale europeo le contraddizioni che queste dinamiche comportano faccio un esempio di queste contraddizioni si vuol fare la transizione cosiddetta verde verso l'energia appunto rinnovabile ma già da prima in verità la scelta del 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 gas la scelta di ehm di tenere aperta le centrali nucleari nell'Unione Europea dalla Francia alla Finlandia già poneva un problema di contraddizione fra quel che le classi dirigenti dicono di voler appunto trasformare il l'approvvigionamento energetico e quello che poi in verità in verità fanno così come oggi sappiamo perfettamente questo lo diceva Paola Nunes molto bene che nel momento in cui ci si sposta dall'approvvigionamento di gas dall'Unione Sovia so via e dalla 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 Russia scusate le il lapsus dalla Russia e si va a rifornirsi di di del gas di scisto dal dagli Stati Uniti in beh si vede che la questione ambientale la 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 salvaguardia appunto del no arm come dicono i gli esponenti della Commissione Europea non non trova invece una una sponda quindi ecco noi ci muoviamo appunto come piccola comunità epistemica a renderci conto dar conto a noi stessi ma soprattutto poi ad informare in tante a chi è iscritta la mail in lista e poi attraverso questi questi seminari quali sono appunto le evoluzioni le scelte le pratiche dell'Unione dell'Unione Europea chiudo dando questa ultima informazione cioè a dire il 27 quindi la prossima settimana noi faremo un ulteriore seminario quindi benvenga chi potrà assisterci o attraverso Facebook o iscrivendosi alla mail in lista sulla governance economica perché ehm negli ultimi anni da soprattutto per rispondere alla crisi della pandemia l'Unione Europea ha fatto delle scelte eh eh facendo un salto di qualità nella nella strutturazione dei processi decisionali sempre più accentrati a Bruxelles e neanche nelle scelte perché non si dà più appunto quanto eh l'Unione Europea ha fatto nel nel per rispondere alla crisi del duemileotto eh e e duemilaquindici perché oggi non non si rispettano più i limiti ovviamente del patto di stabilità e crescere ci sono fatti invece delle scelte in cui le istituzioni pubbliche gli stati membri e la stessa Unione Europea in prima persona appunto ricorrono al debito pubblico anche comune appunto per affrontare affrontare la crisi ehm non si tratta di di kinesismo non si tratta di dare come dire eh fiata la domanda e questo ancora una volta la l'Unione si ha portato un esempio drammatica appunto di di dei dei disabili non si fa la scelta appunto di alimentare la domanda e per rispondere ai bisogni dei cittadini ma si fa invece una scelta di potenziare le capacità competitive delle imprese le imprese sono al centro del disegno dell'Unione Europea e insieme a queste imprese sono le imprese militari a partire da Leonardo eh qui in Italia che vengono al centro appunto del nuovo modello di di sviluppo quindi quando l'Unione Europea parla di sovranità di recupero di sovranità parla di recupero di una sovranità militare militare geopolitica a vantaggio ad interesse solo dei grandi potentati io invito ovviamente se vi ho destato qualche curiosità a iscrivervi alle alla mail in list del del dell'osservatorio dell'Unione Europea e vi invito anche a seguire i nostri lavori perché riteniamo che appunto almeno questo scambio di idee di informazione e di formazione possa essere utile per elevare la consapevolezza di chi sono i nostri avversari vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Franco grazie